la conciatura ben curata e bella è il segno distintivo di ogni donna quindi un'enorme quantità di tempo e denaro viene spesa per la cura dei capelli la chioma può perdere la bellezza e salute a causa dell'impatto negativo dell'ambiente esterno dello stile di vita errato ed altri fattori l'olio di camphra è un vero rimedio completamente naturale che non contiene le sostanze chimiche aggressive ha un effetto positivo non solo sulle ciocche ma anche sul cuoio capelluto inoltre l'olio essenziale di camphra accelera la produzione del collagene e elastina questi componenti sono responsabili per la formazione dello strato superiore protettivo dei capelli li rendono più forti elastici e resistenti all'impatto dei fattori esterni per la formazione di camphra accelera la produzione del collagene per la formazione di camphra accelera il collagene per la formazione di camphra accelera il collagene negativo corrente i camphra accelera l'olioенно Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.